Se lavori con un software di email automation o di autoresponder come ActiveCampaign avrai bisogno di un indirizzo email legato al tuo dominio quindi tuonome-tuodominio.it oppure info-tuodominio.com insomma ci siamo capiti oppure magari sei capitato su questo video semplicemente perché vuoi un indirizzo email più professionale vuoi qualcosa che sia tuonome-nome-dellatua-azienda.it ecco sia che tu sia finito su questo video perché hai bisogno dell'indirizzo legato al tuo dominio per via del fatto che usi un autoresponder sia perché magari vuoi un indirizzo email dall'aspetto più professionale ecco se sei arrivato su questo video per uno di questi due motivi questo è il video giusto per te perché ora ti faccio vedere come crearne uno ed ho per scontato che tu abbia già acquistato il tuo dominio ti faccio vedere come creo questo indirizzo su NetSons perché è il servizio che uso io ma di fatto se capisci concettualmente la procedura ti assicuro che è molto simile anche su altri servizi che offrono hosting e dominio quindi andiamo di fronte allo schermo che ti faccio vedere come faccio allora come prima cosa mi sono logato nella mia area clienti di NetSons dopodiché a sinistra ho cliccato su hosting dopodiché ho cliccato sulla rotellina dell'hosting di mio interesse quindi cliccando sulla rotellina vengo rimandato qui e clicco su accedi a cpanel cpanel non è un'esclusiva di NetSons ci sono tantissimi servizi di dominio hosting che di base offrono cpanel questo è cpanel a noi interessa andare su email accounts una volta cliccato su email accounts veniamo riportati qua e a questo punto si fa create a destra scegli il dominio di tuo interesse adesso tu non stai vedendo il mio sempre per questione di privacy ho blurrato anche questo video username metti quello che vuoi che compare password metti la password che ti interessa optional setting io ti dico questa cosa qui di lasciare tutto quanto così come viene impostato di base dopodiché cliccherai su create una volta che hai cliccato su create viene creato questo tuo nuovo account di email allora cosa interessante come si fa a controllare questo account di email se torniamo sulla finestra di cpanel tu puoi andare su email pardon tu puoi guardare qui dove c'è scritto email e fare che cosa tornare su email account vedi che qui c'è scritto check email tu clicchi su check email e puoi fare il controllo di questo tuo indirizzo email per esempio cos'è che succede magari tu stai andando a configurare questo indirizzo email su active campaign beh ottimo puoi controllare per esempio l'email di verifica di active campaign qui facendo check email e questo è tutto per questo breve tutorial